Buongiorno a tutti, eccoci al consueto riopilogo sull'andamento di Piazza Affari di questa settimana. Anche questa settimana abbiamo avuto una discreta volatilità, tra il minimo e il massimo intercorrono praticamente un migliaio di punti. Il minimo della settimana è stato toccato lunedì a 16.312, il massimo della settimana l'abbiamo avuto a 17.292 punti il martedì. Vi è stata poi sostanzialmente una fase di laterale con la seduta di venerdì che invece è stata decisamente negativa, ha aperto sui massimi ed ha chiuso sui minimi, nel complesso i volumi non sono stati elevatissimi, abbiamo riscontrato dei forti volumi in chiusura, in asta di chiusura, ad esempio su Intesa, evidentemente il fondo di Abu Dhabi dovrebbe essere uscito quasi del tutto e ciò ha provocato un crollo nel finale. Piazza Affari ha avuto un buon andamento per quello che riguarda il rally che c'è stato sui titoli petroliferi a seguito del tweet di Trump, ma non sono bastati ovviamente i titoli petroliferi a controbilanciare la debolezza di tutti i titoli bancari, vedremo se nella prossima settimana reggerà il minimo della candela di lunedì o se invece il potere attrattivo di questo gap che si andrebbe a chiudere sui 15.790 punti avrà il suo effetto, dipenderà molto da come evolveranno le situazioni, se ci sarà una prevalenza di notizie positive dovute a notizie mediche piuttosto che notizie economiche o se invece prevarranno le notizie negative. Con questo è tutto e vi auguriamo una buona domenica.